Reginetta dello stand Fiat di Parigi, 500 Riva, oggi finalmente sullo stand insieme alla barca che l'ha ispirata. Acqua Riva Super, entrambe nello splendido colore blu sera, il colore che Fiat ha ripescato dagli archivi storici di Riva e che unisce l'interpretazione di questa splendida vettura e di questa splendida barca. Seconda importante novità del nostro stand è 124 Spider America, una versione di 124 unità, una versione dunque limitata che andrà in vendita nelle prossime settimane nel mercato italiano e poi a partire da gennaio nei mercati esteri una vettura che ricorda la 124 Spider America lanciata negli anni 80 che celebrava il cinquantesimo di pin in farina. Completiamo lo stand, il nostro giro nello stand con la Tipo Station Wagon, completa il lancio della famiglia Tipo dopo la quattro porte e la cinque porte anche la Station Wagon, la macchina che aggiunge flessibilità e spazio, 550 litri di bagagliaio, la macchina per le famiglie.